Cattedrale vegetale Le dimensioni sono quelle di una vera cattedrale, formata da colonne di rami intrecciati. All'interno di ogni colonna viene messa a dimora una pianta. Con i tagli e le potature saranno adattate a formare negli anni una vera e propria cattedrale vegetale. La cattedrale rappresenta un'idea di magnificenza. Ho sempre voluto dare corpo alla fratellanza che esiste tra il luogo, la sacralità della terra e gli alberi. Cattedrale è un象律ale, e ho sempre potuto creare un rapporto con il luogo, la cattedrale e la cattedrale. Giuliano Mauri nasce a Lodi Vecchio nel 1938. Artista internazionale del movimento Art in Nature, soprannominato dal critico d'arte Vittorio Fagone, il tessitore del bosco. Costruisce architetture vegetali con l'intento di recuperare un dialogo profondo con i luoghi. Giuliano Mauri è un'idea di riccio d'arte Vittorio Fagone. La cattedrale rappresenta un'idea di riccio d'arte Vittorio Fagone. La cattedrale rappresenta un'idea di riccio d'arte Vittorio Fagone. La cattedrale rappresenta un'idea di riccio d'arte Vittorio Fagone.